Si è chiusa senza grandi acuti, ci si aspetta di più da uno come lui nella ripresa. Ha giocato un brutto primo tempo, girando un po' a vuoto e facendo mancare il suo contributo in zona gol. Prova a sorprenderlo, il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo i gol, è comprensibile la loro gioia.